Si tratta di rotavirus e non di escherichia coli, quindi per carità vi dico insomma di riportare le informazioni nel modo assolutamente corretto. Cosa è successo al torrente vibrata dal 12 agosto? Perché la moria di pesce? Una serie di coincidenze negative che difficilmente si verificherebbero, cose normali ma che si sono verificate. A fare il punto della situazione ufficiale questa mattina il presidente della regione Gianni Chiodi. I valori sono tutti entro la norma, è stato l'effetto evidentemente di una serie di concause e concomitanti ma che si sono state circoscritte nell'ambito di pochissimi momenti. Devo dire che anche tutte le notizie che sono state diffuse circa le conseguenze che addirittura hanno subito dei pazienti, dei bambini, si sta verificando che la gran parte di quelle che sono state le gastroenterite che sono state riscontrate sono frutto non di escherichia coli ma bensì di un altro della rotavirus e quindi che nulla a che vedere con eventi di questo genere e quindi io credo di poter essere tranquillo, rassicurare tutti quanti che la zona è assolutamente balneabile e naturalmente aspettiamo di avere ancora qualche altra informazione per quanto riguarda per esempio le analisi che sta facendo l'istituto zoprofilattico che con ogni probabilità potrebbero dirci che per quanto riguarda magari gli effetti sulla fauna ittica magari si può fare riferimento a qualche scarico o altri agenti chimici che non siano stati quelli inerenti a magari un mancato funzionamento per un certo periodo di tempo del depuratore. Quindi devo dire che rassicurare, nel senso che qui si può fare il bagno. Il governatore dell'Abruzzo è arrivato per un sopralluogo alla foce del Vibrata poco dopo le 9.30 di questa mattina. Il caso non è più gestibile a livello locale, il danno per l'immagine turistica soprattutto e non solo per la costa vibratiana ma dell'intero Abruzzo si è ormai verificato e bisogna quantomeno intervenire con decisione e rassicurare anche sui ricoveri di tanti bambini la salute per le persone. Io sono qui proprio per testimoniare e dopo aver accertato queste cose che la situazione è molto, molto, molto diversa da quella che era stata rappresentata soprattutto per quanto riguarda gli aspetti patologici. Naturalmente questo non significa che non ci sia stato un malfunzionamento del depuratore in un certo momento per un breve periodo di tempo, però i valori oggi sono tornati tutti quanti al di sotto dei limiti che sono prefisti dalla legge. Quindi direi, diamo a Cesare quel che diceva, ci sono stati momenti di malfunzionamento ma oggi è assolutamente balneabile, ma gastrointeriti per quello che risulta fino adesso delle analisi che sta facendo l'ASL non derivano dalle schericacoli ma dal rotavirus e quindi che non hanno nulla a che vedere con questa vicenda. Con Chiodi ci sono presidente, vicepresidente, assessori provinciali, amministratori al Benzi, con il sindaco Giovannelli, due consiglieri regionali vibratiani, Di Matteo e Di Luca, il sindaco di Teramo, Brucchi. Per più di un'ora restano chiusi in una piccola stanza dell'ufficio IAT. Questi sono i dati ufficiali sulla balneabilità mostrati dall'assessore provinciale Marconi. L'allarmismo è immotivato, fuori a tratti da telecamere forze dell'ordine numerosi curiosi, villeggianti soprattutto, esausti dallo stilicidio informativo degli ultimi giorni, che hanno paura di entrare in acqua per la confusione che c'è intorno. C'è tensione, rabbia, volano parole grosse, ma la situazione non degenera. Chiodi parla con tutti, consapevole di un cortocircuito informativo e della comunicazione istituzionale ingiustificabile e che non dovrebbe ripetersi in futuro. Quindi lei, Giovannelli e questi altri signori farete tranquillamente il bagno qui? Guardi, non si preoccupi, io vedo che già ci sono i pescatori che stanno pescando proprio lì e comunque l'unico modo per accertarsi di questo è quello che facciamo normalmente, perché nessuno di noi, quando guarda l'acqua, è in grado di valutare. Ci rimettiamo a quelle che sono le analisi dell'Arta, le analisi dell'ente a predisposto, che valuta appunto la balneabilità e soprattutto lo stato di qualità delle acque. Se loro dicono che è così, è così. Non è che guardando l'acqua lei o io ci rendiamo conto più di tanto quando facciamo il bagno al mare, però quando ci sono le analisi poi siamo tutti tranquilli. Grazie. 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 Grazie.